Salve, buonasera a tutti. Luca Rufini, imprenditore romano. Prima di iniziare il discorso volevo ringraziare tutti i parlamentari per questa possibilità che mi hanno dato di potermi rilanciare con il mio negozio, già aperto da un anno. Il mio negozio è una paninoteca artigianale, produciamo tutto noi e per adesso sta andando molto bene, non ci possiamo lamentare. Ho fatto un contratto con Giurisprudenza, Roma 3, Università, che mi hanno fatto questa proposta e hanno accettato tutte le condizioni dei menù per i 30.000 tesserati di tutta l'Università di Roma 3. L'emozione è tanta. Ringrazio tutti di nuovo veramente di cuore di questa possibilità. Grazie.